ciao oggi voglio mostrarvi come faccio a forare una lastrina di metallo normalmente utilizzo un dremel simil dremel un attrezzo rotativo che supporti delle punte da trapano questo è un motore a sospensione poi c'è il trapano a mano e una doppia foratrice allora innanzitutto partiamo dal motore a sospensione o dremel la prima cosa da fare è forare il pezzetto di metallo anzi creare l'invito per il foro con un punteruolo ed un martello è una specie di pre foro e serve a non fare scivolare la punta del trapano sulla superficie del metallo mentre questo è in lavorazione ovviamente allora avete visto un po d'acqua l'acqua serve a raffreddare la punta del trapano mano mano che si lavora perché purtroppo queste punte di trapano tendono a surriscaldarsi come anche il metallo e spesso si bruciano quindi questo è quello che sto facendo in questo momento sto forando il metallo di tanto in tanto mi fermo e intingo la sola punta del metallo nell'acqua in questo modo per raffreddare la punta e proseguo con il lavoro e questa è una visione laterale dello stesso lavoro vedete tra un attimo il foro diventerà passante in questo preciso momento allora l'azione che mi vedete fare su e giù serve semplicemente a ripulire la il foro del metallo questo è il trapano a mano un oggetto molto utile che viene usato spesso per le miniature e in particolare questo che ho comprato ha alcuni pezzi interessanti ha tre tipi di punte molto sottili una chiave e poi vari mandrini che sono posti all'interno di questo slot quindi devo dire anche piuttosto comodo poi per riporre tutto quanto questi diversi mandrini hanno un foro centrale che è sempre diverso perché è diverso perché ognuno di questi mandrini si abbina punte di diametri diversi ora vi sto mostrando come si monta e si smonta questo semplice attrezzo manuale basta mettere il mandrino giusto per la punta che avete scelto tra parentesi le punte sono sempre le stesse sono quelle che usate anche per il dremel o simil dremel ecco quindi io ho scelto questo mandrino dopodiché misuro la punta che è quella giusta vedete comincio ad avvitare questa specie di bullone non arrivo fino in fondo però inserisco la punta a questo punto stringo bene e mi aiuto anche con la chiave che è in dotazione in questo modo il trapano a mano è pronto per l'utilizzo e come si fa molto semplice si ruota tra le mani allora io non consiglio di utilizzare questo attrezzo per uno spessore veramente importante e anche per un metallo così duro come per esempio questo ma io lo utilizzerei per il rame ad esempio o comunque per una lastrina molto sottile adesso vi mostro in tempo reale quanto tempo ci voglia a forare una lastrina di 0,3 mm pochissimo vedete si punta o naturalmente ci vorrebbe al di sotto di questa lastrina un pezzetto di compensato di legno per non rovinare il tavolo non fate come me però vedete molto semplice da utilizzare e il foro è già creato eccolo qui vedete quindi interessante ora passiamo però all'altra foratrice che mi piace moltissimo è la doppia foratrice da un lato fora almeno questa che ho io di bead smith fora un millimetro e mezzo in questo modo vedete in modo molto semplice si stringe un pochino ed il foro si crea immediatamente dall'altro lato si fora due millimetri c'è da dire che qui non c'è alcuna necessità di creare un invito perché pensa tutto questa macchinetta manuale ma molto utile il foro tra l'altro è ben fatto pulito e non necessita di essere ritoccato diciamo in questo modo vedete qui sto forando due millimetri non c'è alcuna pressione da fare si gira questa specie di mulinello fino alla fine e poi il foro è già fatto ora vi saprò dire se la durata nel tempo di questo attrezzo è veramente apprezzabile perché io credo che le farò un grande utilizzo mi serve molto allora una cosa che va detta e va aggiunta è che molte volte non in questo caso quando si fora il metallo rimane una specie di sbavatura verso da un lato all'esterno del foro questa sbavatura va tolta andrebbe tolta per un effetto estetico e anche perché non graffi con una punta da trapano di quelle cosiddette diamantate di forma rotonda un po' più grande del foro che avete creato in questo modo si ripulisce esternamente il foro come questo che era molto visibile e graffiava è un fatto estetico vi dico di rifinitura non dovete fare un foro passante intendiamoci dovete svasare un pochino ma veramente poco quello che avete fatto ora l'obiettivo che uso io non è macro ma credo che si possa vedere che in questo modo il lavoro è più rifinito più professionale semplicemente bene a che cosa servono tutti questi attrezzi tutte queste cose che abbiamo visto a creare oggetti vedete eccoli qui disposti in serie a creare per esempio una collana una collana con connessioni cosiddette a freddo come quella che state vedendo che ho realizzato io ora spero che vi sia piaciuto il video mi raccomando iscrivetevi e mettete like se volete e continueremo ad imparare a creare gioielli e continueremo a fare tutorial sulla tecnica wire connessione